Chi ti ha dato il mio numero? Sono Beatrice Villanova. Rappresento alcuni dei tuoi compagni. Oh, certo. So chi è lei, signora... Signora Villanova. Ti prego, chiamami B. È un brutto momento? No, no, si figuri. Va bene. Come posso aiutarla, signora... Mi scusi, B. Andrò dritta al punto. Vorrei parlare del tuo futuro. Da giocatore, da persona e da icona. Sono convinta che tu non abbia avuto le opportunità e il supporto che merita un giocatore del tuo calibro. Aggiungo che se fossi stato un mio cliente, ora saresti al Real Madrid. Mi piacerebbe invitarti a cena, per parlarne faccia a faccia. Tu scegli la città, io il ristorante. Ti amo. Ti amo. E tu scegli la città, io il ristorante. E tu scegli la città, io il ristorante ha fatto Grazie a tutti